libri allora a gennaio sono uscito con mio secondo libro ed ero tutto contento perché ho detto vabbè, cioè, se esco con un libro domino la classifica di Amazon facilmente perché insomma spingo con la mia community e cazzo ho visto che tu uscivi con un altro libro e ho detto porca droga, cioè no, non può essere non può essere e tu hai questo impatto clamoroso quando esci con i libri come spieghi questo successo però è un successo che dura da un sacco di anni e con numeri incredibili come ti spieghi questo enorme successo che hai avuto nel mondo dei libri non lo so, ogni tanto leggo degli articoli di giornalisti che spiegano il segreto del mio successo li leggo con fame magari capisco anche io perché io, le persone sono stupite di questi eventi, ma io sono il primo che è il più stupido di tutti perché non avevo questa cosa io volevo scrivere una storia ed era andata bene ne ho scritto un'altra credo sia un insieme di cose un po' che uno stile che è mio diciamo che è diventato un po' aggettivo e quindi, come dire, ho messo il timbro su una cosa, su uno stile mio e poi perché faccio, per esempio, tante presentazioni già dal primo libro non ho mai abbandonato le persone quando poi ho ottenuto i numeri ma mi do e secondo me la gente lo sente comunque se ci sei ecco e poi secondo me perché sono storie molto oneste non ho la presunzione di essere un intellettuale che ti indica la strada io racconto cose che quando tu le leggi le sai già io, diciamo, te lo ricordo sono come un tatuaggio, capito? 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 leggi un libro sono come un tatuaggio è bellissima te la rubo sono come un tatuaggio sono qua per ricordarti delle cose ma che sono cose che tu già sai che hai dentro ti serve solo, capito? il promemoria io mi dico solo di promemoria e poi io una volta in questi dieci libri quindi sono quasi vent'anni che scrivo libri ci sono stati due giornalisti che hanno detto due frasi in maniera anche affettuosa che ho capito che poteva essere un po' uno diceva che rendo eroico il quotidiano cioè io non racconto mai storie di spionaggi robe strane ma racconto storie di gente sposata che c'ha il bambino quindi la vita di tutti noi più o meno una vita che io conosco perché nonostante poi nella vita abbia avuto come dire un percorso un po' diverso dai miei amici comunque la mia estrazione sociale è quella io sono diventato tra virgolette popolare avevo già 30 anni quindi la mia personalità era già formata quindi io mi metto il vestitino di Fabio Volo e me lo tolgo anche sono come un supereroe comunque che poi dopo faccio una vita normale e l'altra è che tu leggi il mio libro pensando di leggere la mia storia e man mano lo leggi ti accorgi che stai leggendo la tua storia questo sono due analisi che secondo me sono molto interessanti ecco grazie a tutti